Salve a tutti, sono Francesco Quaranta, sono un agronomo e sono il responsabile dell'associazione Puntastilo. Il progetto punta a far rinascere questo mulino, questa struttura, e a farlo diventare un luogo di incontro per anche fare attività di formazione, di far vedere la tradizione storica, locale, soprattutto con i ragazzi e con le persone che hanno anche una riminescenza storica, far rivivere determinati momenti e far capire quanto anche la tradizione agricola ha un valore attualmente. Fino adesso abbiamo realizzato, sistemato e rimesso a disposizione e riaperto questo luogo, però ci manca ancora una parte importante per completare i lavori e renderlo fruibile al 100%. Vi invito a sostenerci, a contribuire, a partecipare a questa campagna di raccolta fondi. Naturalmente chi contribuirà potrà accedere a una serie di servizi che metteremo a disposizione delle persone che parteciperanno, come già molte altre persone lo hanno già fatto e sono venuti anche a trovarci e hanno avuto la possibilità di gustare i nostri prodotti e di vivere quello che facciamo qui.